Dopo l'annuncio della morte di Gianni Minà, nomi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport dicono addio al giornalista, morto oggi all'età di 84 anni. Se n'è andato un amico al quale volevo un gran bene. Oggi è un giorno di dolore enorme, le parole di Fiorella Mannoia. È morto Gianni Minà all'età di 84 anni. Il giornalista si è spento dopo una breve malattia cardiaca, come ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale. Giornalista, documentarista, scrittore, uno dei volti più apprezzati della TV e della cultura lascia un grosso vuoto nel cuore degli italiani, nomi famosi dello spettacolo, del cinema e dello sport, gli dicono addio sui social. L'allenatore dell'Italia Roberto Mancini, Luca Ward, Francesca Fialdini, il cantante Gemon, e Leonora Giorgi con un commento al post sul profilo di Gianni Minà salutano il giornalista, gigante, grande Gianni, le parole tra i commenti. Anche Fiorella Mannoia piange la sua scomparsa, e prova un dolore enorme, così come da lei descritto. Se ne è andato un amico al quale volevo un gran bene, un giornalista e un uomo integro, per bene, onesto. Oggi è un giorno di dolore enorme, le sue parole a corredo di una fotografia di Minà. Salda Vinci ha dedicato un lungo messaggio al giornalista. Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Gianni Minà, un'icona del giornalismo italiano, e un grande ambasciatore della musica e della cultura latina nel nostro paese. La sua passione e il suo impegno per diffondere la bellezza della musica e delle tradizioni sudamericane, hanno ispirato generazioni di appassionati e professionisti del settore. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo della cultura italiana. Le mie condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace. Gianni Minà. Anche Mara Venier lo saluta su Instagram. Ciao Gianni, ha scritto a corredo di una fotografia del giornalista. Anche Mara Venier lo saluta su Instagram. 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 Grazie a tutti.